Quasi un terzo degli italiani è a rischio di povertà o esclusione sociale. Lo rileva l'Istat nel report su reddito e condizioni di vita del 2012. Rispetto al 2011 l'indicatore cresce dell'1,7% per l'aumento della quota di persone in famiglia severamente disagiate dall'11,2% al 14,5%. La quota di persone che vivono in famiglia a rischio di povertà è sostanzialmente stazionaria, 19,4%, dopo l'incremento osservato tra il 2010 e il 2011. Si mantiene stabile dal 2010 anche quella relativa alla bassa intensità lavorativa, 10,3%. La situazione si aggrava al sud, dove quasi la metà, il 48%, dei residenti è a rischio di povertà ed esclusione. Ed è in questa fascia di persone che l'aumento della severa deprivazione risulta più marcato, più 5,5 punti nel mezzogiorno, dal 19,7% al 25,2%, contro più 2 punti del nord, dal 6,3% all'8,3% e più 2,6 punti del centro, dal 7,4% al 10,1%. Il rischio di povertà o esclusione sociale, segnala ancora l'Istat, è più alto per le famiglie numerose, a 39,5% o monoreddito, 48,3%. Aumenti significativi fra il 2011 e il 2012 si registrano fra gli anziani soli, dal 34,8% al 38%, i monogenitori, dal 39,4% al 41,7%, le famiglie con tre o più figli, dal 39,8% al 48,3%, se in famiglia vi sono almeno tre minori.